Ciao astronomeri! Oggi esploriamo come portare il telescopio TAKASHI FSQ-85 EDX, conosciuto come il BBQ, al prossimo livello. Vediamo come possiamo migliorare con dispositivi Prima Luce Lab e creare un fantastico astrograph per la fotografia di astrofotografia remontamente e automata. Questa piattaforma giapponese è riconosciuta per la qualità ottica ottica e è una scelta top per gli astrofotografici che cercano un telescopio compatto, ancora più performante. Basato su un design quadrupleto di apochromatico Petzval, il design quadrupleto di apochromatico, offre un diametro di 85 mm di diametro e di focale di 450 mm di focale f5.3, con un circolo immaginato di 44 mm. Questo è l'ultima scelta per l'astrofotografia di astrofotografia di astrofotografia. Ma come sapete, a Prima Luce Lab abbiamo esplorato molti dispositivi per convertire ogni telescopio in un instrumento di astrofotografia remontamente per un instrumento di astrofotografia. e abbiamo tutte le soluzioni per il Takashi FSQ-85EDX2. Oltre che il focalizzamento preciso è importante per le migliori foto, il primo upgrade è relato al focalizzatore stesso. Se uscrisse la scelta lockata e poi uscire l'organizzazione originale, vedete che la barra interna è 66 mm di diametro. Quindi, per il FSQ-85EDX, suggeriamo l'esatto 3", che può essere collegato al tubo FSQ-85EDX utilizzando l'adaptor PL3600271, che può essere direttamente tagliato al tubo male. PL3600458, che può essere tagliato all'esatto 3", che può essere tagliato all'esatto 3", potremmo usare l'adaptor PL3600458, per collegare il rotatore ARCO 3". E, dopo il rotatore, possiamo collegare l'adaptor PL36252 per ottenere, dopo il rotatore, la femmina M72, normalmente trovata in diversi accessori Takashi. in questo modo, possiamo collegare l'adaptor e la macchina visualizzazione che vengono con il FSQ-85EDX per eliminare il rotatore CAA che non necessitiamo più, perché ora usiamo l'arco 3". Finalmente, possiamo collegare l'adaptor Takashi Auxiliary ring e l'adaptor S, che vengono con il telescopio, e potremo collegare e concentrare la nostra camera che ha una distanza 17.5 mm dal sensor al fronte del fronte e il nodo 2". Prendetevi che questo modello cambierà se usare un'altra camera. Per esempio, se connessi la camera di SLR con la distanza 55 mm dal sensor al fronte del fronte del sensor bisogna eliminare la extensione del 40 mm per ottenere il focus. Inoltre, se vuoi usare l'adaptor Takashi 101X dedicato a filtrato per il FSQ-85EDX dopo l'adaptor PL3600252 dopo l'adaptor PL3600252 you can directly thread the fill flattener and then add an extender or mechanical adapter that may be needed in order to reach the required focus behind a corrector that is 56.2 mm The next thing we want to add is the plus 95 mm support rings that replace the original tube holder by providing increased stability and mounting options thereby enhancing your Rastof photography setup. Thanks to the plus rings we can for example mount additional devices such as the Eagle computer in the lower part of the FSQ-85EDX. By adding a 240 mm plus dot tail bar below the Eagle we are able to connect it to any mount provided with the Los Mendes style dot tail clamp. On top of the plus support rings we can connect the 350 mm plus dot tail bar that extends up to the front end of the telescope to let me connect the next devices used for astrophotography remote control and automation that are the Jotto flat fill generator and the alto telescope cover motor. Let's start from selecting the correct Jotto dimension for the FSQ-85EDX. Since external diameter of the front view shield is 115 mm we can use the Jotto 120 that provides a 120 mm white panel to fully illuminate the optical system. In order to use Jotto also as a motorized telescope cap we can use the alto telescope cover motor that connects to the telescope by adding the plus dot tail clamp. This allows me to clamp alto and Jotto to the plus 350 mm Los Mendes style bar that I previously installed. This is how we prepare the Takashi FSQ-85EDX telescope for remotely controlled and automated astrophotography. This way you can take advantage of its incredible optical performance with an asset versatility thanks to all our smart devices to make your astrophotography session more efficient. For more content that will help you to explore the universe like a pro, subscribe to our channel and clear skies! for more content! Thank you!